La polizia oggi ha consegnato alle tre diocesi della provincia l'olio del giardino della memoria di Capaci in occasione del 31esimo anniversario delle stragi compiute dalla mafia. Il tema della cultura della legalità è un tema sul quale si sta spingendo molto nelle giovani generazioni, in un momento storico in cui la città è spesso preda di bande di minori, con le recenti operazioni delle forze dell'ordine. Proprio ieri il questore di Simone ha emesso un provvedimento di Daspo Willy nei confronti di due minori stranieri che fanno parte di quella banda che ha messo a ferro e fuoco distributori automatici in centro, consumando furti e danneggiamenti ai danni pure di macchine a pizzoli e ospiti di una comunità di minori. Le forze dell'ordine fanno repressione ovviamente, ma è importante pure la prevenzione. Però come sfondo c'è sempre la tutela della legalità, il rinnovarsi anche in questi segnali di pace, peraltro che vengono in prossimità delle festività pasquali, il senso dell'impegno delle forze di polizia. Noi non possiamo mollare, non possiamo avere momenti di esitazioni e quindi tante volte lo stimolo e il ricordo di quanti hanno dato il massimo sacrificio per lo Stato italiano ci deve supportare, ci deve far dare l'energia per continuare. Stiamo ottenendo degli ottimi risultati, ma questo non è l'azione di una singola istituzione, perché a me mi piace ricordare che all'Aquila quella che funziona bene è la squadra Stato e quindi tutta la collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, con la Prefettura, col signor Prefetto che coordina tutte le attività, le iniziative che vengono svolte nell'ambito della sicurezza provinciale e soprattutto con l'autorità giudiziaria. È una sinergia che deve trovare le sue dinamiche e che ha consentito che ogni fatto che venga commesso sia stato portato immediatamente a risoluzione. Don Carmelo Pagano le Rose, cappellano della Polizia, sottolinea invece la bontà dell'iniziativa dell'olio che da Palermo è arrivata in tutta Italia. Ed è un segno di unità con una terra che soffre e queste bottigliette di olio che verranno consacrate il Giovedì Santo nascono in una terra che è bagnata dal sangue delle vittime della legalità. Dunque è una terra feconda che deve ricordarci l'impegno quotidiano per far crescere la nostra società nella comunione, nella verità, nel bene e nella giustizia autentica.